Take it easy, take it slow, we can do it up just like before, so take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un unissimo video su Fortnite News Per parlare ovviamente di nuovissime novità che sono successe nelle ultime ore Innanzitutto andremo a parlare di quello che è successo ieri per Lebron James Insomma ben 2300 persone, ovvero pochissime, sono riuscite a ottenere io compreso questa bellissima skin con il backpack gratuitamente Quindi andremo a vedere anche ovviamente novità per la patch 17.20, nuovissimi leak E soprattutto andremo a vedere insomma delle risposte di Epic Games riguardo all'uscita di nuovi codici E insomma andremo a vedere in pratica quello che è successo ieri, come si poteva infatti ottenere questa skin gratis Detto questo ragazzi prima di iniziare se non siete ancora iscritti iscriviti al canale con la campanellina Cerchiamo di raggiungere i 200 mi piace per questo bellissimo Lebron James in arrivo Poi domani nel negozio oggetti con l'intero bundle E poi vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissato in alto Twitch dove vado in live ogni sera dalle 20 Instagram e Telegram mi raccomando perché lì avevo messo proprio il codice per Lebron James Quindi mi raccomando attivate le notifiche perché in alcuni casi come potete vedere ci sono di super leak su Telegram in anteprima Mi raccomando quindi andate anche a unirvi lì Detto questo incominciamo subito Iniziamo subito questo video news con la primissima novità che riguarda sempre la nave madre Infatti ogni giorno nei Fortnite News stiamo sempre vedendo delle posizioni nuove per quello che riguarda la nave madre Ieri abbiamo visto che si spostava proprio verso l'esterno insomma della mappa Sembrava insomma che stava andando via insomma dalla mappa Ma come possiamo vedere questo è il suo aggiornamento della sua posizione Sta facendo come sempre il giro verso ovviamente il senso orario Anzi anti-orario scusate Della mappa Quindi ovviamente sappiamo che verso la pace 17.20 che arriverà prossimo martedì Molto probabilmente si sposterà ancora più a sinistra Per poi una volta essere totalmente a sinistra In teoria si dovrebbe spostare piano piano verso il centro della mappa Se tutto ovviamente va come deve andare Se no farà ancora dei giri Poi comunque verso fine season Quello che è sicuro è che comunque andrà esattamente nel centro mappa Quindi tutta la mappa sarà ricoperta da questo enorme UFO Che poi sarà ovviamente la causa dell'evento finale Si spera che ci sia ovviamente di questa stagione E andiamo avanti ragazzi con la prossima news che riguarda il negozio oggetti Infatti come possiamo vedere abbiamo tre nuove stringhe Che sono praticamente le prime due per quello che riguarda Lebron James E poi ragazzi l'ultimo è l'armadietto di Ayo e Teo Che forse è quello che è uscito proprio oggi Comunque fatto stare che quelle due più importanti sono ovviamente quelle di Lebron James In arrivo domani nel negozio oggetti Bundle ovviamente completo Due skin nel negozio oggetti a 1500 i bucks Il Picon in teoria a 800 massimo credo i bucks Il Deltaplano E poi ovviamente anche le due skin Che sono per l'appunto diciamo le più importanti di questo set Abbiamo anche grandi novità per quello che riguarda la nuova patch 17.20 Infatti anzi 17.40 e 17.20 Perché innanzitutto come potete vedere qui alla mia destra La patch 17.40 è iniziata Quindi la stanno incominciando a testare molto bene Ricordo che comunque la patch 17.40 dovrebbe arrivare tra un bel po' Quindi sono parecchio avanti per il momento per quello che riguarda insomma le varie patch Mentre patch 17.20 ragazzi ovviamente arriverà martedì prossimo Con ovviamente poi anche la 17.21 il martedì dopo l'uscita della 17.20 Patch che ripeto che dovrebbe portare niente di troppo In teoria dovrebbe portare l'aggiunta di qualche nuova arma Soprattutto quella di Rick e Sanchez Porta ovviamente nuovissime skin Nuovissime novità magari anche per il compleanno di Fortnite Pace se non erro è verso fine luglio E magari altre novità Le Brun James niente perché ormai l'evento è praticamente in uscita domani Anzi è già iniziato in realtà ieri Con i codici e tutto E quindi devo dire che questa patch Comunque non porterà grandissime cose Porterà insomma qualche nuova arma E qualche nuovo leak sicuramente comunque Tra l'altro ragazzi ieri non so se ve ne siete accorti Ma è praticamente stata riasciata un'arma da nulla Anzi un'arma un consumabile in realtà Praticamente la mucca gonfiabile Attualmente mi sembra che l'hanno disabilitate in tutte proprio le modalità Quindi sia pubblica che arena Per via di un bug Mi sembra che tipo saltava troppo Andavate fino in alto nei cieli Proprio verso l'infinito e oltre tipo E comunque un consumabile per mio super divertente Infatti io non ho neanche avuto proprio il modo di provarla Perché tipo qualche ora dopo è subito stata rimosso Rimossa questo consumabile Però tipo nel trailer che vi ho messo su telegram Andatelo a vedere se non l'avete ancora visto C'è praticamente il gameplay Praticamente vi potete buttare da qualsiasi altezza Con questo consumabile Voi lo mettete e rimbalzerete insomma Quindi molto molto carino come consumabile Insomma vi consente di avere la sicurezza Praticamente di non subire mai danni Perché quando cadete insomma Mettete questo consumabile e rimbalzate Senza prendere nessun danno Comunque molto divertente Come si può trovare questo consumabile Nei bottini a terra Folseri normali Lanci di rifornimento Folseri OI E acquistabile pure da Rick e Sanchez Per 25 lingotti Solo uno però a partita Inoltre ragazzi vi voglio far vedere anche questo leak Perché non so se lo avete insomma notato Ma stanno aggiungendo una marea di nuovi avamposti OI Praticamente in ogni città abbiamo un avamposto Insomma non si sa bene il motivo Io credo che il motivo sia perché ci stiamo piano 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 Preparando insomma quello che sarà L'evento secondo me di fine stagione Perché comunque questi avamposti OI Secondo me serviranno un po' anche in aiuto Per contrastare insomma Gli alieni se sempre alla fine si riveleranno Insomma in qualche modo cattivi Perché alla fine non lo sappiamo ancora del tutto Se sono buoni o cattivi Ma credo più cattivi che buoni Siccome vogliono il punto zero Di solito chi vuole il punto zero È sempre insomma dalla parte dei cattivi Quindi molto probabilmente Anche per quanto riguarda gli alieni Dovremmo cercare in qualche modo Di difendere il punto zero Per insomma evitare che Venga tutto quanto consumato Come lo era insomma per Galactus Ormai ogni insomma evento Tratta sempre in qualche modo Del punto zero Che bisogna difenderlo E bla 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 Quindi questa volta toccherà sicuramente Sconfiggere gli alieni Ovviamente evento che non sappiamo se ci sarà Noi tutti ovviamente ci auguriamo che sia così Detto questo ragazzi Passiamo a quello che riguarda l'Ebron James Perché abbiamo veramente tantissimo da dire Quindi passiamo adesso all'argomento principale Riassumiamo velocissimamente quello Che è successo proprio ieri Verso le 18 o 19 tipo di sera E' stato riasciato un codice Uno tutto in minuscolo L'altro tutto in maiuscolo Però il codice per quanto riguarda lettere e numeri Era uguale Cambiava solo ovviamente che uno era scritto in maiuscolo L'altro in minuscolo Ma questi due codici sono stati riasciati Praticamente da Insomma dal sito ufficiale della Nike Non si sa il perché Non si sa il motivo Ma Nike e Fortnite Insomma hanno deciso di riasciare questi due codici Dove praticamente potevano essere riscattati Questi due codici insieme Dico ben 2300 volte Quindi si poteva utilizzare questo codice Per ben 2300 accanto Questo codice dava in regalo La skin e il backpack di l'Ebron James Io stesso l'ho riscattato Come possiamo vedere Infatti sono uno praticamente dei pochissimi Che ho riuscito a prenderlo Perché c'erano due codici Ma i due codici insieme Ripeto davano solo 3300 skin In backpack insomma Di questo fantastico set E ne arrivo vi ricordo domani Nel negozio oggetti E quindi da lì cos'è successo Che praticamente Dato che hanno riasciato due codici Insomma Twitter I vari social sono impazziti Quindi tutti hanno chiesto Ma quindi questi codici Ne arriveranno altri Ce ne saranno altri Insomma prima che arrivi nel negozio oggetti Tutte queste cose qua Poi ci sono anche state ovviamente Le solite truffe Che insomma alcuni vendevano dei codici Inesistenti insomma Delle skin di Lebron James State mi raccomando sempre attenti A quello che Trovate insomma su internet Perché dovete solo affidarvi Mi raccomando Alle cose ufficiali Perché ci sono tantissime truffe in giro Quindi non cascate in quei tranelli Perché attualmente No ragazzi Non c'è nessun Codice disponibile Di Lebron James Infatti abbiamo Eccola qui La risposta da parte Proprio dell'Epic Games Infatti dice Praticamente Ve lo riassumo Proprio velocemente Praticamente dice Che sì Effettivamente Questi codici Ci sono stati Ma sono stati Ovviamente Un'esclusiva Quindi una cosa A tempo limitato Che solo Come potete vedere 2300 player Sono riusciti A riscattare Insomma E poi Insomma Verso la fine Di questa Di questa email Dice che Ovviamente I codici Erano solo quelli Erano solo quei due E che non ce ne saranno Altri Quindi Una conferma Del fatto Che no ragazzi Purtroppo Non avremo Altri codici Per quello che riguarda Lebron James Perché Perché questo è Praticamente Un comunicato ufficiale Di Epic Games Quindi Almeno che Epic Games Non sappia neanche Quello che fanno Direi che È abbastanza Confermato Il fatto che I codici Di Lebron James Sono finiti Quindi Solo quei due Che hanno rilasciato Ieri Alle 18 Erano validi Se non siete riusciti A prenderli Potrete Insomma Prendere Ovviamente La screen Nel negozio Quindi Questo volevo Giusto Chiarire Perché Sicuramente Già ieri Live Tantissimi Mi avete chiesto Come ho fatto A sbloccarlo Come E quando Potrebbero Esserci Noi codici Purtroppo Ragazzi Niente Purtroppo Per chi non è riuscito Dovrà per forze cose Acquistarle Nel negozio oggetti Almeno che Insomma In qualche modo Non facciano Una cosa simile Anche per quanto riguarda L'altra skin Di Lebron James Ma La vedo molto difficile Quindi Per quanto riguarda Sicuramente I codici Di Lebron James Questo qui Che sto usando io Sicuramente Non ce ne saranno altri Dubito fortemente Che metteranno Altri codici Per quanto riguarda L'altra skin Quindi Direi che I codici Sono Più che finiti Quindi Per chi la vuole Insomma La trova comunque Nel negozio oggetti Domani Detto questo Per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Vi sia stato utile Vi ricordo Tutti i miei social Qua sotto Nei commenti Fissate in alto Detto questo Noi ci vediamo stasera In live su Twitch Mi raccomando O domani Come sempre Con un nuovissimo video Su YouTube Alle ore 18 Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti